eccoci siamo di nuovo online questa volta con Mauro Fratini ciao Mauro ciao ciao Roberto buonasera a tutti ciao a tutte le persone grazie di aver avuto pazienza soprattutto per poter essere qui stasera abbiamo fatto vari tentativi ma per colpa mia a causa mia a causa della vita che è complicata la prima volta mi avevano sospeso le dirette mi sembra la seconda mi ero completamente scordato che avevamo fissato l'incontro e oggi me ne sono ricordato dicono che non c'è due senza tre invece eccezione allora abbiamo ancora nessuna in diretta ci prendiamo magari qualche ah ecco cosa devo fare Mauro mi stavo dimenticando quello che ti dovevo dire che devo condividere la diretta sul mio profilo e lo devo fare guardando il computer e non te tu magari riesci a farlo sul tuo mi sposto lasciamo tanto la scena che è comunque migliore di me no ma se non te è un se non è difficile perché questo che devo fare tu dimmi ah sì o sul mio profilo Roberto Adduci o sulla pagina di face to face quella che ti è più comoda dovrebbe esserci condividi che è papà papà Lo condivido sul mio? Sì. Ok. Lo condivido pure su quello dell'Associazione Culturale Due Gatti, se riesco. Sì, ottimo. Ma tra l'altro mi dà zero partecipanti, ma so che è falso. Perché sento mia madre che la sta guardando, quindi... una persona almeno dovrebbe esserci. Vediamo se vado sul... No, è bloccata così. Ci sei ancora, Mauro, tu? Io ci sei, un attimo, che sto condividendo dappertutto. Sull'altra pagina pure, la mia... Intanto, dato che siamo, mi dà come appunto partecipanti zero persone, se qualcuno sta ascoltando... ecco una, una mia... È apparsa adesso. Adesso. Quindi... Ok. Siamo. Eccoci qua. Allora, dicevamo, che ti ho invitato qua oggi, che sono riuscito finalmente a connettermi con te, perché, come ti spiegavo, quello che vorrei fare è far conoscere anche l'uomo, la persona che c'è dietro l'attore o la donna dietro l'attora. E parlerei, inizierei a parlare. Io ho postato il tuo... Ho preso come pretesto il monologo, l'eccaculo, le tentazioni... Non mi ricordo... Gristo. Gristo, ok. Le tentazioni erano di Gristo e poi Ciceruacchio. Che sono andato a vedere si chiamava Angelo Brunetti. Tu sicuramente avrai guardato anche tu. Ho visto anche, cercando su Facebook il tuo video, scrivendo Ciceruacchio, un film di Ciceruacchio con Nino Manfredi. Esatto, perché Nino Manfredi pure ha interpretato. Tu l'hai visto il film? Guarda, credo di averlo visto perché... Però, talmente tanto tempo fa che non lo ricordo più. O comunque qualche pezzo, perché non vorrei sbagliare, dovrebbe essere Gigi Magni il regista. Non so, però. E comunque... Verificheremo. Verificheremo questa cosa. Però ricordo, insomma, quando scrissi... Perché quel monologo risale a parecchi anni fa, probabilmente qualcosa cercai per... Sicuramente. Per farlo, insomma. Di quando è? Io ho il video del 2017. Sì, ma era stati di Riasi, quindi sarà 2013-2014. Poi l'ho stato caricato molto dopo. Ciciruacchio, perché proprio io incontrai la statua al Pincio, andando al Pincio, vedi questa statua, mi sono incuriosito perché c'era questo bambino e ho cercato appunto chi era, chi fosse. E c'era una bellissima storia dietro, no? Una bella vista. Sì, infatti... Anzi, dopo ci arriviamo su questa cosa. Magari partiamo esattamente da questo concetto. Non mi ricordo cosa ti stavo dicendo. Ah, ho postato il tuo video, però non mi ricordo cosa volevo dire. Quindi partirei direttamente con il concetto. Tu attraversi questi tre mondi, diciamo, per arrivare a esprimere, tu lo dici bene in un passaggio, che se lecco il culo non ho più la dignità. Quando tu fai l'orientazione di Cristo, fai proprio questo passaggio, che può racchiudere un po' quello che volevi passare, il succo del tuo monologo, era proprio questo, no? Il succo era questo e era il potere. Il potere e la classe dirigente c'era, no? Quindi è quello che noi facciamo per ringraziarci il potere e quindi essere ruffiani per ottenere vantaggi, che da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista sociale, economico, qualsiasi cosa per cui è facile piegare la dignità, che è quello che dicevamo prima, per piegare la dignità per ottenere un beneficio mondano e quindi c'è la premessa che parla dei politici e poi appunto Cristo che non accetta le tentazioni del demonio di potere, soldi, mangiare tutto quello che è mondano e per arrivare a Ciceruacchio, che appunto si è fatto fucilare lui insieme al figlio per l'ideale dell'Italia, no? È un patriota che è stato trucidato dagli austriaci e insieme al figlio, ecco, e quindi lui non si è piegato e anzi ha portato avanti fino all'estremo il suo ideale, no? Non si è ingraziato il potere neanche di fronte alla morte e quindi ho trovato interessante questa capacità che a noi è del tutto sconosciuta oramai di avere la dignità e la forza di un ideale, no? Come mai secondo te? Ma non lo so, sono cambiati i tempi e forse non abbiamo appunto un ideale perché la forza morale ti viene da una spinta di un'idea, una motivazione forte, pensavo alle stesse persone in un altro monologo quando parlo della giornata della memoria dei partigiani che si sono fatti torturare dentro a Biatasso a Roma che era la famigerata prigione delle SS e per permetterci a noi di arrivare a vedere il grande fratello Vip, dicevo all'epoca era un grande fratello numero 6, penso, numero 7 di quegli anni, no? E quindi loro che pensa se l'avessero saputo, no? Se l'avessero saputo, però ecco avevano una spinta, una forza che ti permette di superare il dolore fisico, la tortura, io per primo non avremmo più quella capacità di resistenza perché forse appunto non abbiamo più un'interiorità forte, non abbiamo più una spiritualità che ti permette banalmente anche i martiri cristiani, no? Tutti i periodi in cui la gente credeva a qualcosa e grazie a questa forza affrontava qualsiasi peripezia Noi siamo più delicati, siamo stati cresciuti e dico noi, io sono abbastanza grande rispetto anche ai più piccolini o alle mie figlie, no? Che abbiamo cresciuto in un vuoto interiore e in un pieno esteriore, quindi siamo stati tutti riempiti di cose esterne, ma dentro è entrato poco e quindi siamo in difficoltà anche affrontare i momenti difficili, i sacrifici, abbiamo proprio una bassissima soglia di resistenza che poi resistenza si chiama proprio così, no? La resistenza perché resisti a qualche cosa avversa ma non ti tiri dietro e quello è Ciceruacchio, no? Ciceruacchio che era praticamente era messo da Mazzini a capo e da Garibaldi a capo dei rivoltosi romani, lui era un semplice oste, però parte con questa voglia di fare, di unire Roma all'Italia e di fare l'Italia Unita e quindi poi si trova in situazioni avverse, scappa, va verso il nord Italia, viene preso dagli austriaci e si fa fucilare insieme al figlio piccolino. Ecco, e quindi io poi chiudevo il monologo dicendo chi, quale dirigente oggi politico metterebbe l'interesse comune, l'interesse generale, l'interesse della cittadinanza, l'interesse di un popolo, ha al suo tornaconto personale. Tu ti ricordi la frase finale che dicevi? Eh, no, non esattamente. Quella che gli chiedevano a Ciceruacchio, tu? Ah sì, un uomo, quella là dell'uomo. E com'è, te la ricordi? Eh, sono oste, ma ogni tanto sono uomo. Mi sembra fosse una roba. E la citazione è sua, sua o comunque nella letteratura riportata all'episodio, io sono sempre un oste, ma ogni tanto sono uomo. Ecco, noi ci scordiamo che cosa a volte significa essere uomo, no? Eh, ma a proposito di questo, oggi, scusa se ti interrompo, finisci, te lo dico da me. No, no, vai, vai, ho finito. Ah, ok, scusa. Che si tende a suddividere, cioè c'è sempre questa tendenza nel suddividere ad esempio la vita privata e la vita professionale. Ciceruacchio dice, io sono oste, ogni tanto sono uomo. Penso, io non sono nessuno e mi sbaglio sicuramente. Prima siamo uomini o donne, prima siamo persone e poi siamo altro, no? In questo modo, vai. No, no, vai tu, vai, vai. In questo modo? No, era dire solo, c'è un, ci può essere una base per un ideale, per una morale forte e magari comunitaria. Certo, cioè. Oggi, come dicevi tu, siamo riempiti esternamente, no? Togliamo, se nel tuo monologo fosse stato, anzi no, comunque quello semplice, mette dire è che se togli la parola Dio dall'epoca medievale, non ha più senso l'epoca, l'epoca perde di senso perché era la parola chiave su cui tutto girava. Oggi gira tutto intorno ai soldi, è il nuovo Dio, l'unica cosa di cui siamo pieni, molto pieni. Sì, che poi se ci pensi fa ridere perché c'è qualcosa che non funziona, perché la cosa più importante sono i soldi e la maggior parte delle persone sono in difficoltà ad averli, quindi c'è qualche cosa nel meccanismo che non funziona, no? Però comunque, perché se tutti tendono a… sì, che poi non è solo proprio i soldi, l'avere e il lavoro, ecco, il lavoro noi ci identifichiamo, sono oste e a volte però sono uomo e quindi quando divento uomo non posso più fare i compromessi, no? Che faccio quando sono oste perché poi magari devo vendere il vino, il vino poco buono, insomma, ci sono i compromessi nel lavoro, nell'esterno, però quando poi arriva il momento dell'uomo, del principio, lì è inderogabile, no? E allora, e però come dicevo, è una forza interiore che subentra. Invece noi ci identifichiamo completamente con il lavoro che siamo, no? Cioè, ci sono altre battute, in altri spettacoli dove appunto dico, Mario è un idraulico, no? Patrizia è un'avvocata, nessun animale, un gatto è un gatto, un tonno è un tonno, nessuno si identifica con il lavoro che fa e noi invece siamo stati convinti che il lavoro siamo noi, invece noi non siamo il lavoro, noi siamo uomini e donne e così, e infatti poi quando uno perde il lavoro è la tragedia, no? Cioè non abbiamo più risorse, se ci tolgono quel bricelo di sicurezza sociale che pensiamo di avere, perché poi ecco la pandemia quanto ha dimostrato che interi settori, no? Di un capitalismo sono crollati miseramente di fronte a un virus invisibile, no? E quindi tutto quello che è il centro commerciale, il ristorante, l'aperitivo, cioè erano tutte quelle forme esteriori che si sono dimostrate debolissime e allora crolla non solo l'economia ma crolla pure la dimensione di tante persone che non sanno proprio più come chi sono, diceva adesso che non lavoro, chi sono, che cosa faccio? E questo è... Anche perché il lavoro è direttamente fonte dell'unico modo di sopravvivere che abbiamo, cioè senza lavoro è difficilissimo procurarsi da mangiare, un posto dove stare, dei diritti fondamentali che... di cui veniamo privati nel momento in cui lavoro, che tra l'altro cioè in Italia è pure difficile trovare lavoro e tenersi il lavoro. Eh già era prima così difficile, no? Sì. Già, dico prima era già difficile, poi questa, la pandemia ha solo peggiorato, peggiorato dove è possibile la situazione, perché ora i giovani, quando parlo di disoccupazione giovanile, che siamo paese europeo con la disoccupazione giovanile più alta, siamo al 39%, puntiamo al 50%, ce la possiamo fare se ci crediamo, no? E quindi però, porca miseria, pure prima era evidente che i giovani non sono aiutati, non solo a trovare lavoro, a essere valorizzati, pure lì non viene valorizzata la persona per quello che ha fatto, per quello che sa e quindi potrebbe dare molto di più, ognuno invece al lavoro cerca quel misero compenso che gli permette quella sopravvivenza che dicevi tu e però viene mortificata la parte interiore anche lì, no? Cioè, poi ognuno non fa il lavoro che gli piace, quello bravo si vede superato dai leccaculo che dicevo nel pezzo, no? Perché in Italia sappiamo poi che arriva il figlio, il parente, il cugino, l'amante, meno quello che veramente potrebbe svolgere bene quel lavoro. svolgendo bene quel lavoro dà un vantaggio a tutta la comunità che lo paga, invece così non solo non paghiamo le persone per non fare le cose, ma appunto sprechiamo risorse e mortifichiamo le persone che invece potrebbero dare un contributo e quindi c'è, specie nei giovani, una disaffezione incredibile, no? Se tu non c'è la speranza che impegnandoti puoi raggiungere qualche obiettivo, ma non è un obiettivo appunto economico, ma che sei contento di quello che fai, che ti realizzi nel senso, non realizzare economicamente, ma ti realizzi perché puoi mettere in pratica quello che ti piace, quello per cui ti sei formato, che hai studiato, invece viene mortificata la speranza, quindi viene mortificata la spinta vitale e senza la spinta vitale diventano tutti piccoli zombie che vanno in giro cercando appunto l'espediente per sopravvivere e questa al di là di qualsiasi posizione politica è proprio un modo triste di interpretare la vita che ci è stata data, una, forse irripetibile, può dipendere, e invece la sprechiamo così a minchia perché, perché, e con la pandemia è uscito fuori poi lo schifo, cioè gli ospedali, c'è tutto, è crollato un mondo che era organizzato e montato male, come un film sbagliato, la nostra vita era un film sbagliato, e quello che mi sembra brutto è che si sta cercando i rimedi per tornare a tutti i corsi a quel film lì e non prendere l'occasione per cambiare sceneggiatura, ecco. Prima tu ne stavamo accennando, ti dicevo che non ero molto informato, però hai detto una cosa, hai detto che stiamo, sta lavorando questo governo, come quello di prima, per mettere come materia fondamentale al centro la cultura, anche questo, di nuovo. Ho detto solo una cosa, dimmi, non so se è lei, che c'è una politica che adesso fa parte del governo, che tempo fa si era vantata di non leggere libri da almeno tre anni, non so se è la stessa a cui… Eh, è la sottosegretaria, la sottosegretaria Borgonzoni, no, della Lega, a prescindere dalla partita, a prescindere dal fatto che sia una sottosegretaria, che comunque è un vice ministro, ma i partiti hanno dovuto piazzare come al solito le persone sbagliate al posto giusto. Perché? Perché gli interessi della politica sono diversi dall'interesse collettivo. Comunque speriamo… Eppure lì, vedi, poi, quando abbiamo avuto il momento, sai, Draghi contro tutti, no, Draghi risolve qualsiasi cosa, io anche mi si è rotta l'asciugatrice, ho pensato adesso che era Draghi e la sistema, perché a quel punto c'è un momento che fa tutto lui in Italia, qualsiasi cosa, se rompe il lavandino immagini che arriva Draghi e esiste nel lavandino. Eppure, pure lui, nonostante l'ha minacciato, ha minacciato i partiti, ha dovuto, cioè, hanno dovuto fare il peso 10 a te, 10 a me, 5 a lui, 5 a sé, e comunque poi i partiti hanno messo le persone che non sono prettamente le più in gamba che c'erano. C'è un bel libro, vediamo quanto dura Draghi, c'è Ennio Flaiano quando scrisse il Marziano a Roma, non so se l'ha mai sentito parlare o l'ha letto, comunque è interessante, ve diciamo per chi magari non lo conosce, che arriva questo Marziano a Roma e dopo un primo punto, l'entusiasmo iniziale, un Marziano qui, un Marziano speciale, un Marziano, alla fine, dopo poco, anche il Marziano dice, Marzia spostate, me togli il sole, era diventato pure lui, noi abbiamo distrutto tutti, Monti, tutti i salvatori della patria arrivano e poi dopo noi ci stufiamo e Renzi a un momento era dal più diverso, noi siamo capaci di mettere sul piedistallo il più grande del mondo a poi il più cretino del mondo e non si capisce perché poi una via di mezza alle volte, magari è un po' di equilibrio, invece noi non ci riusciamo, quindi vediamo adesso Draghi quanto dura. Sì, sarà anche lui, cerca come Conte farà più o meno, penso. Vediamo, perché poi comunque è difficile oggettivamente, al di là delle ghiacchiere, Conte qua diventa tutto tifo da stadio, ma è una situazione difficile da gestire, vuoi vaccini, vuoi se apri scontenti gli ospedali si riempiono, la gente muore, se chiudi i ristoratori si avvelenano, cioè è veramente complicato e difficile oggettivamente, chiunque sia, però chissà all'opposizione è facile dire che, però nessuno dice poi come risolverebbe lui la cosa, cioè è quello che mai, cioè ok, tu non sei capace ma si potrebbe fare così, invece no, manca il si potrebbe fare così che è l'idea per risolvere le cose e solo dire tu sei incapace. E allora, vediamo, vediamo, io sono curioso, non so se tu sei curioso, la curiosità di vedere come va a finire questa storia della pandemia italiana. Ma io sono tanto depresso, in generale. Vedi che dicevo prima che poi... No, sì, hai ragione, ma al di là di questo è proprio il fatto, quello che dicevi tu, c'è una mancanza di ideali, possiamo chiamarle una mancanza di visione anche della classe dirigente, della classe politica. Tutti cercano di andare avanti nello stesso modo in cui siamo arrivati a questo punto. Per quanto riguarda la pandemia, io mi interesso molto di politica, cerco di praticarla, so per certo che in regione Lombardia, per questione sanità, fino a un mesetto fa, adesso non lo so, però fino a un mesetto fa, non si sono mai trovati per fare riunioni o incontri sulla sanità. Capisci? C'erano cose più interessanti probabilmente, no? Sicuramente, posso dirti che hanno pensato in pandemia, perché c'è stato uno spostamento di assessori, eccetera, in cambio di un assessore in arrivo hanno rifatto, in tempi di pandemia, un palazzo su per il lago dove lei era prima come si chiama, la sindaca. La Letizia. Esatto. La Letizia che è tornata, il ritorno di Letizia. Per quanto? Per cui dico, ok, forse non è questione di incapacità, però di volontà, perché... E poi la Letizia si è richiamata Bertolasi, ognuno si richiamano sempre i vecchi amici, capito? Cosa si può dire se non è... E' veramente... Quindi tu capisci che al cospetto di un ciceruacchio che si fa uccidere, capito? E no, si capisce. Capisci che... Ma lo stesso Gesù Cristo, capito? Cristo che non c'era il demonio, è strepitoso, perché ha fame, no? Eppure, capito? Non... Perdi, se perdi... Però, quindi, non lo so, guarda, io... Sono disperato, sono disperato, però no... È una disperazione positiva, cioè nel senso che bisogna comunque immaginare... Cioè, se non... La visione siamo pure noi che la costruiamo, ecco. Quindi voi giovani per primi, voi giovani per primi dovete ritrovare la forza di pretendere alcune... Alcuni spazi, alcuni... Se tu dici fai politica, fai attività, io spero che c'hai altri ragazzi per cui l'impegno a portare avanti le proprie idee è un valore, è un valore necessario, ma non perché è necessario, è necessario proprio per vivere, capito? Per vivere nel senso della comunità, pure l'altra cosa che è l'individualismo sfrenato che è stato inculcato nelle menti di tutti, per cui se io sto bene, se io riesco a farmi la mia vacanza, il mio weekend con l'aereo, che poi tutto è crollato, no? Era tutto impostato per... Cioè, io devo riuscire a fare la mia bella vita in cui nessuno è felice, però tutti fanno finta di esserlo e sono pronti a acciaccare chiunque pur di mantenere questo standard. E adesso tutto quello che sembrava indispensabile è diventato nulla. E quindi penso e spero che da questa situazione difficile che vivete, specie voi giovani, capite che le risorse poi veramente... Cioè, non è un... Cioè, il fatto che devi trovare risorse dentro di te, dentro le idee, insieme alle... Nelle relazioni con le persone che stanno bene con te, che vivono con te, che possono portare avanti dei progetti, delle idee, no? Ecco, insieme... E rinasce un senso di comunità. Però, chiaramente, dall'altra parte, questi sparano, capito, coi pezzi di cannoni da 90 e... E' difficile poi far capire ai ragazzi che... Che... Che la vita non è una corsa a diventare ricco e potente, perché... C'è anche dell'altro. Sì, è un po' difficilissimo da fare, soprattutto ai giovani. Come dicevi tu, ci hanno inculcato questa mentalità. Parlare di certe cose con i giovani è davvero complicato. Adesso sicuramente io parlo per la mia situazione, che è quella di Como. Quindi magari è una città particolare. però... Anche a livello... Quando mi trovo a discutere magari... Quando ho possibilità con persone di altri luoghi, che non sono della Lombardia... Trovo le stesse difficoltà che ci sono qua. Comunque c'è una mentalità settata su un tipo di visione, che adesso si chiama Welfare. Però quel Welfare... Non è proprio ciò che... Welfare è l'aiuto necessario a chi, appunto, in una situazione... A chi ha delle difficoltà maggiori e quindi in una società... Chiamiamola evoluta... Viene sostenuto dagli altri. Quello serve il Welfare. Tutta la società è resa bisognoso di Welfare. Perché allora è finito. Ma anche perché veramente ci sono tantissime opportunità... E per esempio l'altro... Io ho delle figlie che hanno finito... Una all'università, una fa la maturità. Eppure io combattevo contro il modello che vedevo che inculcavano di questa scuola competitiva, dove tu devi essere migliore degli altri... Senza nessuna attenzione per capire che la scuola serve ad acquisire degli strumenti di capacità di ragionare, di pensare, di avere le visioni... Questa era l'idea della scuola e della formazione. Invece no, i corsi di inglese a pagamento... Perché se non vai all'estero all'università... Non imparico... Ma insomma... C'erano state intere generazioni di gente in Italia preparata delle università italiane... Cioè quindi... Che significa che pure... Quindi sempre il bisogno è quello di acquisire strumenti... Non per essere in grado di pensare... Ma per essere in grado di essere... Di schiacciare gli altri e superarli nella corsa... Nella corsa all'arrivo del posto... Del lavoro... Del lavoro... E poi... Invece... Si sono accorti anche i giovani che poi questo lavoro non arriva uguale... Se non sei raccomandato... Se non sei... E questo è veramente una cosa... Deprimente... Schifosa... E su questo... Questa sarebbe una battaglia da fare... Io ne monologhi... Lo dico... Vediamo... Prima o poi se riesco a far rivoltare i giovani... Perché è veramente troppo... Adesso per esempio... Vi stanno accollando pure il debito pubblico... No? Eh... Perché... Questa... Tutta questa cosa di... Eh... Appunto... Ristoriamo questo... Ristoriamo quell'altro... I soldi a debito... Soldi a debito... Soldi a debito... Ma... I soldi a debito sono... Praticamente il debito che pagherete voi... Eh... Chi lo paga sto debito? I giovani... Quindi... Quindi ci sono i vecchi... Ci saranno i vecchi... Chiamiamoli i vecchi... Che poi non è... E' attenzione di non cadere neanche nel... 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 Nel dualismo vecchi contro giovani... Perché quella è l'altra trappola che prepareranno poi a un certo punto... Ma... Senza... Qui... Eh... Non è... Eh... Complottismo... Però... Una classe dirigente di persone... Anziane... Diciamo... Devono trovare degli strumenti diversi... Da... Accollare tutti i problemi... Facendo debito... Accollandola ai giovani... Perché altrimenti siamo capaci tutti... No? Cioè... E' abbastanza facile... Cioè... Io adesso continuo a vivere nel mio modo... Faccio... Migliaia e migliaia di euro di debito... Che lascio alle mie figlie... Non mi sembra che così hanno fatto i famose generazioni... Di prima... Cioè... Loro hanno costruito... Qualcosa per lasciare... I giovani... Un vantaggio rispetto alla loro vita... E io parlo di quelli che i miei nonni... No? La guerra... Cioè... Loro quindi... Hanno poi hanno fatto... Hanno costruito... Le... Le... Mh... Le condizioni... Perché la nostra vita... Fosse migliore della loro... Eh... Noi stiamo facendo in modo che invece... La nostra vita... È molto meglio di quella che avranno i nostri figli... E questa è un'infamata... Se... 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 Permetti... Non so... Però... Più o meno è così... Assolutamente... Permetto... Eh... Mi rifaccio a una... Sempre una frase che tu dici nel monologo... Che questo è un paese di merda... Perché... Eh... Ci rende... Ci costringe a essere peggiori... Di quello che siamo... Per... Desiderare ad arrivare... Ad avere... Cose... Altre... Adesso non mi ricordo perfettamente com'era... Eh... E... 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 L'hai spiegato il perché... Cioè... Siamo sempre davanti alla competizione... Sempre al... Al scegliere... Cosa... Eh... Lasciare di noi... Per avere... Qualcosa che è riconosciuto... E ci può far riconoscere... Quindi... Cioè... Io questo lo dicevo... Sia da questo punto di vista... Sia anche dal punto di vista artistico... Perché noi... Come... Comici... Come comedian... Come... Cioè... Eh... Per quello che è l'industria culturale... Eh... Siamo... Costretti... Chi... 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 Chi lo... Chi lo accetta... Questo compromesso... È costretto a... 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 A essere più stupido... Cioè... Se tu guardi le trasmissioni comiche... Sono degli stupidi... Che fanno ridere... Qualcuno che pensano... Eh... Stupido... Come loro... Cioè... Non... Non c'è un rispetto... Né... Del comico... Che invece va sul palco... Per raccontare... O portare un'idea... E non c'è soprattutto... Il rispetto del pubblico... Perché... Se io penso che il pubblico... È intelligente... Mi vergogno... Di fare... Una comicità... Eh... Becera... O ignorante... O... Credina... No... Per quanto sia... Poi... È lecito tutto... No... È lecito tutto... Nel far ridere... Qualsiasi cosa... Però... Comunque... L'industria culturale... La televisione... Ha portato i modelli... Ad abbassarsi... Sempre di più... Se tu pensi... Ai comici... Che abbiamo avuto... Storici... E pensi... Ai comici... Che vanno ora... In tv... Ti rendi conto... Che c'è stato... Un degrado... Perché... Totale... Totale... No... Che vuol dire... Poco rispetto... Per il pubblico... Che è la cosa più grave... Perché... Il pubblico... Se tu... Cioè... Vai... Gli dici cose... Interessanti... E divertenti... Ride... Non è detto che ti devi... Devi fare... Ti devi rendere più stupido... Cioè... Io... Ti tranquillizzo... La dinamica è... Io comico... Salgo sul palco... E ti faccio... Ti tranquillizzo... Perché... Sono più coglione di te... O almeno lo faccio... Te lo faccio vedere... Questa... Eh... Questa è la dinamica... Della comicità... Televisiva italiana... No? Per cui... Alla fine... Poi... Sei costretto a... Eh... Rimani isolato... E non porti... Alcuni contenuti... Infatti... Non passano nel... 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 Ma non perché il pubblico... Non le gradisce... O non le vuole... Perché... Fa parte del processo... Di rincoglionimento generale... Dove... Dove... Comico... L'artista... Se tu pensi... I donnazzi... I sordi... I fabrizi... Eh... Andando indietro e avanti... Cioè... Erano comunque... Delle persone... Che erano... Prima artisti... E poi comici... Prima uomini... E poi comici... Eh... Invece adesso... Ti mettono in testa una parrucca... Un vestito d'ave... Un qualsiasi cosa... E... 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 Con due spicci... Ti comprano l'anima... Tua... E quella del pubblico... E... E... Anche sto pensando... A colorato... Tra l'altro... A chi? A colorato... Caffè... Eh... Colorato... Eh... Ma non è... Poi... Ma... Veramente... Io... Ho lavorato in televisione... Quindi so che le dinamiche... Sono proprio di... Produzione... Perché nessuno vuole prendere rischi... No? Nessuno prende rischi... Nessuno... E sì... E andiamo avanti così... Verso... Verso il peggio... E... E si affer... Però... E... E si affermano... Modalità e stili... Che poi... Eh... Condizionano... La... La cultura... Noi... Nel nostro piccolo... La nostra piccola rivoluzione... Con Statiriasi... E poi... Con quello che stiamo facendo... Anche adesso... Eh... La stiamo facendo... La stiamo portando avanti... Prima stand-up in Italia... Non c'era... Grazie... A Statiriasi... Eh... Eh... E a... E a poche persone... Adesso... Eh... La stand-up è in tutta Italia... Eh... Eh... Se vuoi fare... Anche delle cose che state facendo... Poi andiamo verso la chiusura... Sì... Ok... Che avete fatto... Più che altro per gamba... Siamo... E noi abbiamo... Cioè... Quello che portiamo avanti... È la possibilità di esibirsi... Appunto... Non rendendoci... Eh... Ridicoli per far ridere... Questo è diciamo... Il principio... Scegliere... Degli argomenti... Quali che siano... Con un punto di vista... La stand-up... E si va sul palco... Si parla... Alla gente... Viva... Eh... Eh... E poi abbiamo... In questo momento... Stiamo sperimentando... Anche il linguaggio di Zoom... Ma non per... Come adesso... Stiamo facendo queste interviste... Cioè... Non... È... È chiaro che è una cosa diversa... No? Perché... Sarebbe... Sciocco pensare che... Il teatro... Possa essere ridotto... Eh... Su Zoom... Il teatro è fatto tra vivi... Eh... Perché girano delle emozioni... Girano delle energie... Eh... Eh... Su Zoom... Eh... Diventa una cosa... Leggermente più celebrale... Ma... Ma comunque... Bisogna... Anche adattarsi... Ai... Ai tempi... Che... Che ci sono... Quindi... Sperimentare... Io sto facendo i corsi... Con la mia associazione di... L'associazione culturale Due Gatti... Facciamo i corsi di... Stand-up... Di scrittura sostanzialmente... Perché poi la... Stand-up... Sembra una parola americana... Eh... Cioè... È uno che fa un monologo... In piedi... Solo che a differenza... Appunto... Un monologo... È... È un pezzo scritto... È un pezzo scritto... È come se uno... Legge una novella... Un racconto... Ma la comprime in pochi minuti... E poi... La porta al pubblico... Facendoli ridere... Cioè... Non è... Una cosa esoterica... Perché poi... Solo questa comicità... Che... Negli altri paesi... Ancora... Sassoni... È sempre stata... L'unica... Diciamo... Non l'unica... Ma comunque... La forma predominante... Di comicità... In Italia... In Italia... In Italia... In Italia... Abbiamo avuto... Più... Un approccio... Appunto... Cabaretto... Artistico... Eh... Semplice... Di... Insomma... Una comicità diversa... Non l'allunghiamo... Troppo... Ehm... E quindi... Niente... Fra... I corsi... Che stiamo facendo... Uscirà... Una... È uscita... Già... Una nuova generazione... Di... Comici... Interessanti... Sono giovani... Sono bravi... Hanno voglia... Di mettersi in gioco... E dicono... Le cose... Come dicevi tu... Parlano... Di... Di quello... Che stanno vivendo... In questo momento... Ecco... Perché la... Stand up... Si afferma... Perché a differenza... Del teatro... Frainteso... De... Che... Che deve parlare... Del passato... Il teatro... Per essere vivo... Deve parlare... Del presente... E grazie alla stand up... Che... Non serve... Niente... Praticamente... Serve un microfono... Due casse... E lo puoi fare... In qualsiasi luogo... Non ti serve... No... Un pub... Una sala... Un'associazione... Culturale... Qualsiasi posto... Si può fare la stand up... E... Fare stand up... Significa... Portare... Le proprie idee... E confrontarsi... Con le altre... Persone... Possibilmente... In allegria... Se sai fare bene... Il lavoro... Senza stare... No... E... Possibilmente... In allegria... Perché... Il riso... È la... L'arma... Più forte... Che abbiamo... Contro la stupidità... E contro il potere... Non so... Ti ho detto tutto... Sì... Sì... Ti volevo chiedere... Se... Scusa... Dato che... Su Zoom... Eh... È aperta... Anche al di fuori... Del... Delle persone... Che potevano... Prima... Venire in presenza... Cioè... Tipo... Io... Se volessi... Farlo... O qualcun altro... Vedere lo spettacolo... Vero fare il corso... Dice... No... Il corso... Adesso che lo faccio... Ah... Il corso... Certo... Sì... Si... Eh... Si è aperto a... Tutti quelli che... Sì... Certo... Assolutamente... Sì... Quella... Associazione... Culturale... Due gatti... I due gatti... Eh... Si prendono informazioni... Eh... 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 E... È aperto... Chiaramente... A tutti quelli che partecipano... Con la speranza... Poi... Perché noi... facevamo i corsi qui da me, nell'associazione, e poi avendo il palco fai il laboratorio, cioè metti subito in pratica, non è che siamo lì due anni a far finta di scrivere, cioè in poco tempo capiamo quale sono le cose essenziali per scrivere un monologo di stand up e poi subito sul palco lo si prova col pubblico la sera. In questo momento non è possibile fare questo e facciamo delle serate su Zoom, con aperte anche al pubblico, quindi c'è sia il corso fatto su Zoom che le serate poi fatte con un pubblico che partecipa da casa e funziona, è stato Pietro Sparacino a fare i primi spettacoli su Zoom e ormai tanti fanno spettacolo su Zoom. È chiaramente un'altra cosa, l'abbiamo già detto. Quindi chi volesse informazioni, associazione culturale due gatti, chiocciola gmail.com Ok, grazie. Tanto tu non hai visto, svegliamo Noven, perché ho fatto passare questo messaggio, se vuoi guardare. Ah, debora, 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 grazie, l'associazione culturale due gatti, grazie debora, debora partecipa, sarà una prossima comedian. Sì, è una dei giovani che è uscita. Sì, sì, è una dei giovani che sta lavorando con noi. Ah, magari possiamo, se ha voglia di, anzi non sono a mente, però se ha voglia di fare magari un incontro con me, face to face. Eh, lei, ti può raccontare, lei è venuta al villaggio organizzato con The Comedy Club, Pietro Sparacino, abbiamo fatto questo villaggio della stand-up e penso che si rifarà a settembre, adesso stiamo capendo. Sì, non lo so se cambia il posto perché l'abbiamo fatto troppo a sud e quelli del nord hanno fatto troppi chilometri, quindi forse sarebbe il caso di farlo un po' più al centro, così possono venire sia da sotto che da su, perché sono arrivati appunto, lei, Deborah è di Bolzano per dire, però quindi l'ha fatto a Bolzano crudo, un viaggio della speranza. Però poi dopo da lì si è appassionata e poi segue i corsi e sta scrivendo i suoi primi monologhi. Guarda cosa che ha scritto. Che ha scritto, che ha scritto? Nah, mi tocca, ah, vedi, lei, perché io gli dico sempre che se vogliono fare poi i soldi devono fare il cabaret. Devono andare a colorare. Eh sì, colorato, l'aspetto a braccia aperte. Adesso non c'è più vero? Ma secondo me riparte, riparti. Io penso che riparta, come riparta, come riparta, insomma stanno ripartendo, pure loro stanno un po' in difficoltà perché non è, è tutto fermo pure, è un po' fermo, un po' più fermo di prima. In certi casi può essere anche una possibilità magari. Sì, 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 ma allora no, se ai giovani capita di andare è giusto che loro vanno a fare esperienza in questi, assolutamente, assolutamente, c'è un tempo per tutto, quando, come abbiamo fatto anche noi, abbiamo fatto delle esperienze per capire che sono esperienze sbagliate. L'importante è sapere, avere consapevolezza in che contesto stai, se stai in un contesto televisivo, se stai in un contesto teatrale, se stai in un contesto di stand up, no? L'importante è acquisire gli strumenti per saper modulare le diverse, i diversi linguaggi, perché sono proprio linguaggi diversi, cioè hanno tecniche leggermente diverse, sia per la televisione, per il teatro, insomma, è un approccio diverso, però alla base c'è sempre la recitazione, c'è sempre il saper scrivere qualcosa, eh? E' complicatissimo, tra l'altro, scrivere qualcosa. No, non è così complicato, se stai, insomma, chiaramente è un mestiere artigianale, come tutti i mestieri, devi sapere qualche segreto, diciamo, qualche rudimento, no? Tu conosci un mestiere che, no? Cioè, che devi comunque studiare, no? Qualsiasi cosa tu fai, in qualsiasi campo, devi apprendere delle tecniche e poi devi avere la capacità artigianale di realizzarle, di metterle in pratica. Però, ecco, non è impossibile. Poi, certo, c'è la fantasia, c'è l'estro, c'è il famoso talento, tutte queste cose. Però, insomma, non è, ecco, non è più difficile di tante altre cose che abbiamo imparato a fare nella vita, si può, si può, se hai la passione per scrivere, eccoci, quello sì, e per recitare. Perché la passione, come abbiamo detto prima, la parte ideale, la forza interiore è la motivazione che ti spinge poi ad andare avanti, anche quando le cose non vanno tanto bene. Perché è chiaro che nel percorso di esperienza ci saranno serate che non andranno benissimo, no? Ci saranno dei monologhi che non funzioneranno. Però lì uno si rimbocca le maniche, capisce e va avanti se sei appassionato come, no? Invece, se poi appunto non è una vera passione, dopo le prime due, tre, le prime due, tre, le prime due, tre, le prime due, tre botte che prendi, dopo si abbandona. Ma io vedo che, almeno quelli che vengono, che conosco io, sono tosti, quindi… Sì, sarà… no, dicevo che era difficile perché, per me, ovviamente, perché comprimere il pensiero in un testo, cioè quello che vuoi dire in un testo, diventa davvero, come dire, laborioso. È la parte interessante, cioè il fatto di comprimere un concetto e renderlo chiaro e anche divertente, a quel punto se riesci a comprimere un concetto complesso in una frase sostanzialmente, no? Infatti il corso, la prima era parole scelte, perché devi scegliere le parole che ti consentono di comprimere un concetto e di renderlo chiaro e al tempo stesso dargli quel punto di vista, quell'intuizione che lo rende anche comico. È una sfida affascinante, è chiaro, ti devi essere… ti devi piacere, no? Devi essere appassionato, però è bello portare il tuo lavoro che col pippone, diciamo così, non passerebbe dall'altra parte, no? Ecco perché la comicità, il ridere è potente nei confronti del… se vuoi fare, diciamo così, virgolette polemica, politica, sociale, perché tu riesci, attraverso la risale, attraverso una capacità di divulgazione, di portare concetti anche complessi, no? Di portarli a tutti e quando ci riesci e che… e vieni ripagato attraverso la risale, l'applauso è veramente gratificante e ti mette a paro delle altre frustrazioni che hai avuto in altre occasioni. E' un'altalenarsi, è un'altalenarsi di mettersi in discussione, di disperarsi e di gioire, però è emozionante, è bello, poi c'è l'adrenalina quando stai sul palco, no? Quando incontri le persone che ti esibisci, effettivamente… e cresci, cresci tantissimo secondo me, quindi è un lavoro, quando tu l'hai detto qua all'inizio, per conoscere, ecco, l'uomo che va sul palco, no? Perché, ecco, prima di essere un comico c'è un uomo, c'è una donna e si vede quando va sul palco, perché se non c'è l'uomo e la donna sul palco non c'è sostanza, no? E quindi, insomma, è un'avventura che porta a crescere come persona, soprattutto. Poi se va a finire, come Debora, a fare la gabbarettista… Asciuga, asciuga, città, vedi? Brava. Quindi, allora, mi dicono che devo asciugare, giustamente… Quindi, dimmi tu, Roberto. No, sì, quindi, niente, concludiamo così. A me ha fatto strapiacere parlare con te, trattando poi tematiche che sono super importanti, come quelle che tratti comunque sempre, almeno nei monologhi che ho visto, nei pezzi e negli spettacoli che porti. Mi ha fatto venire voglia di… perché io scrivo, ho scritto cose di teatro ma facevano pena e le ho lasciate perdere. Ho scritto… ho scritto degli articoli, ma altro che pipponi i miei articoli e sono incomprensibili. E ho scritto degli articoli… Dimmi. No, anche su quello puoi… cioè, sì, il saper scrivere, diciamo, per un monologo, per il teatro, può servire pure per scrivere per articoli, per qualsiasi cosa. Lo scrivere… anche una lettera all'avvocato… Ci serve, comunque. E quindi sei curioso. E allora è ora che provi. E dopo ti scrivi, ci sentiamo in privato, perché mi devi dire gli orari, eccetera, tutto. Va bene. Cioè, magari qualcun altro si iscriverà oltre a me. Speriamo. Va bene, se succede, noi ci siamo. Così una base per settembre, se riusciamo a fare quella cosa, quel progetto lì di stand-up, per qualcuno c'è già anche. Magari. Va benissimo. Allora, abbiamo asciugato tutto. Abbiamo asciugato, altrimenti Deborah, giustamente, mi sgrida, perché dice, io vi dico sempre a loro di asciugare, e poi dopo… Poi vai lungo. Ci allunghiamo, dice, come mai? Predica bene la sua mano. Mi ha fatto piacere. Mi ha fatto piacere. Vedi che la terza volta ci siamo riusciti, quindi ecco, non bisogna mai… Mai demordere. Mai demordere, bravo. Alla prossima. Ci sentiamo poi su Facebook. Ciao, grazie Dante. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao.